Il Vangelo della Liturgia E adesso sono lieto di annunciare che l'8 decembre prossimo terrò un consistorio per la nomina di nuovi cardenali. La loro provenienza esprime l'Università della Chiesa, che continua ad annunciare l'amore misericordioso di Dio a tutti gli uomini della Terra. L'inserimento dei nuovi cardenali nella Diocesi di Roma, inoltre, manifesta l'incendibile legame tra la sede di Pietro e le Chiese particolari di fosse nel mondo. In esso la vera felicità. E adesso ognuno si chiede nel suo cuore, come è il mio amore? Preghiamo per i nuovi cardenali, affinché, confirmando la loro adessione a Cristo, sommo sacerdote misericordioso e fedele, mi aiutino nel Ministerio di Vescovo di Roma per il bene di tutto il santo popolo di Dio. E a tutti voi vi auguro una buona domenica. E per favore non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci. Grazie.